La Regione Toscana sta lavorando per consentire ai cittadini di muoversi in modo sempre più sostenibile e sicuro. Nel piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, gli interventi riguardano ferrovie e treni, il trasporto pubblico locale su gomma, le piste ciclabili, il sistema portuale, la sicurezza sulle strade. Ce ne parla l'assessore alle infrastrutture e mobilità Vincenzo Ceccarelli. Avere una mobilità sostenibile per quanto riguarda le persone, per quanto riguarda le merci, significa investire per un trasporto pubblico locale che sia più efficiente, che sia più qualificato. Vuol dire fare investimenti per nuovi mezzi, siano essi treni, bus, autobus o tranvie, significa avere una maggiore integrazione dal punto di vista modale, significa puntare molto sulla bicicletta come mezzo di trasporto per andare a scuola o al lavoro, come strumento per quanto riguarda la promozione turistica o per quanto riguarda la socializzazione. Tutto questo lo stiamo perseguendo assieme anche ad una dotazione infrastrutturale che deve migliorare, si deve qualificare sempre al servizio di questo modello di mobilità. Tutto questo fa parte di una strategia che è racchiusa appunto nel piano regionale integrato delle infrastrutture della mobilità, che prevede dal 2014 al 2030 in Toscana circa 12 miliardi di investimenti, dopo 4 anni abbiamo impegnati circa 4 miliardi e già liquidati 1 miliardo e 7. Siamo una delle poche regioni che in questi anni, dove sono anche diminuite le risorse per quanto riguarda il sostegno al trasporto pubblico locale, non ha chiuso nessuna ferrovia, anzi ne abbiamo riaperta una che precedentemente era stata chiusa, come la Cecina Saline, abbiamo riaperto recentemente la ferrovia tra Siena e Grosseto che è stata circa un anno chiusa perché è interrotta da una frana. Abbiamo messo a disposizione grandi investimenti anche poggiando sul bilancio regionale per migliorare le infrastrutture ferroviarie. Penso al raddoppio della Pistoia Lucca, il cui primo lotto è in fase di realizzazione. Penso al raddoppio della Granaiolo Empoli, che è comunque in progettazione e finanziata in un accordo che abbiamo appunto fatto con il governo. Ma penso anche ai forti investimenti che RFI sta facendo un po' su tutte le linee ferroviarie, dalla dorsale centrale a quelle anche più periferiche. Recentemente abbiamo firmato due protocolli importantissimi, uno per investire circa 50 milioni nella ferrovia Faentina e nella Val di Sieve, recuperando anche risorse che facevano parte di un accordo che poi non era mai stato onorato relativamente alla compensazione per quanto riguarda i lavori dell'alta velocità che furono realizzati negli anni 90. L'altro per quanto riguarda invece la realizzazione di un piccolo scalomerci a Castelnuovo-Garfagnana per consentire quindi di trasportare merci su ferro di importanti aziende e liberare anche la strada di Fondovalle. Penso agli impegni che RFI sta portando avanti per riqualificare, adeguare, abbattere le barriere architettoniche in tante stazioni della Toscana per oltre 100 milioni di investimenti. Tutto questo assieme all'investimento su nuovi treni, sono 63 quelli che sono arrivati negli ultimi tre anni e altri ne arriveranno da qui al 2019, ma altri ancora ne arriveranno se, come noi abbiamo già sottoscritto attraverso un'intesa, andremo il prima possibile alla firma del contratto con Trenitalia 10 più 5. Ecco, in questo contratto è previsto il rinnovo completo del materiale rotabile, quindi in Toscana entro il 2023 tutti i treni che saranno in circolazione saranno rinnovati per un investimento di oltre 750 milioni di Euro. Noi negli ultimi tre anni abbiamo visto migliorare la puntualità di tre punti, oggi siamo al 92%, siamo una delle migliori realtà a livello europeo e tutto questo si accompagna anche alla maggiore regolarità. Per esempio, se andiamo a vedere quelle che sono le soppressioni dei treni, siamo ad una percentuale dello 0,5%. Non dimentichiamo che in Toscana abbiamo il più alto numero nel rapporto tra residenti e servizi effettuati, sono circa 900 al giorno, oltre 22 milioni di chilometri treno all'anno. Per avere una mobilità sostenibile occorre avere un trasporto pubblico locale che sia fortemente integrato, tra il ferro, la gomma e la bicicletta. Il ferro per noi è la priorità, la gomma integra e completa. In attesa che si esaurisca il contenzioso per quanto riguarda la gara che abbiamo lanciato qualche anno fa e che ha portato ad avere due offerte importantissime con la previsione di oltre 2.100 mezzi nuovi che dovranno essere forniti. Ecco, però nel frattempo stiamo per firmare proprio un contratto ponte per cui accanto a 115 mezzi che sono frutto di un cofinanziamento che stiamo realizzando in questo momento con 12 milioni messi a disposizione alla Regione arriveranno anche altri 118 mezzi nuovi, frutto appunto del contratto ponte. Sono previste oltre 200 paline intelligenti, nuova tecnologia installata sui mezzi nuovi e su quelli già in circolazione, quindi tutto questo per cercare di qualificare appunto anche il servizio su gomma, dando maggiore comfort, maggiore sicurezza, possibilità di maggiore accesso come sulla ferrovia anche sui mezzi su gomma per quanto riguarda i diversamente abili una maggiore informazione e soprattutto un'integrazione modale che è importante perché dobbiamo ovviamente avere delle coincidenze che siano sempre più puntuali e che consentono di poter partire magari da un piccolo paese della Toscana facendo all'origine il biglietto che consente di poter salire su più mezzi pubblici per arrivare a destinazione senza ogni volta dover rifare di nuovo il titolo di viaggio. Sicuramente anche questo è un aspetto molto importante, direi che è un obiettivo di civiltà, ovviamente in stretta collaborazione con le istituzioni territoriali, quindi i comuni, le province che sono poi titolari di competenze per quanto riguarda una buona parte della rete stradale. La Regione negli ultimi 10 anni ha messo a disposizione oltre 100 milioni di Euro che hanno consentito di cofinanziare più di 400 interventi di messa in sicurezza, magari interventi anche piccoli dal punto di vista della quantità di risorse impegnate, si tratta di realizzazione di rotatori, di marciapiedi, di maggiore illuminazione per quanto riguarda gli incroci di segnaletica, ma importantissimi per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti e quindi una maggiore sicurezza stradale. Solo nell'anno 2017 abbiamo finanziato 59 interventi con circa 4 milioni di Euro. La Regione Toscana da 8 anni vede il trend degli incidenti incidenti e conseguentemente dei morti e dei feriti in flessione. Ovviamente ancora rimane molto da fare perché, come dicevo, è anche una battaglia di civiltà. Attualmente importanti interventi sono rivolti al porto principale della Toscana, vale a dire che è in fase di ridazione tutto il leader che dovrà portare alla realizzazione della piattaforma Europa, con 200 milioni messi a disposizione dalla Regione e con altre risorse rilevanti da parte del Governo e dell'autorità portuale per un investimento di oltre 600 milioni che nella rimodulazione che tra l'altro ha fatto l'autorità di sistema portuale dovrebbe durare circa 5 anni, ma far diventare Livorno un porto veramente competitivo per quanto riguarda i traffici anche delle grandi navi, oltre che per le crociere. Nel frattempo però il porto di Livorno è stato infrastrutturato con due interventi molto rilevanti. Uno è quello del collegamento diretto tra la Darsena Toscana e la rete ferroviaria nazionale attraverso questo collegamento che è stato finanziato con oltre 40 milioni di Euro anche dalla Regione Toscana. L'altro è il collegamento diretto tra porto e interporto, per cui la Regione ha già redatto il progetto definitivo e ora lo ha passato ad RFI che dovrà svilupparlo sino all'esecutivo per poi realizzare l'opera che costerà circa 24 milioni anche qui con un grande finanziamento da parte della Regione. Da questo punto di vista fondamentale è anche l'intervento che RFI ha programmato per quanto riguarda l'adeguamento della ferrovia tra Prato e Bologna con oltre 300 milioni di investimenti nei prossimi tre anni, saranno fondamentali appunto per i nostri porti e anche per lo sviluppo degli interporti che abbiamo in Toscana.